Grazie a tutti, grazie di cuore, grazie a compagno Martina. C'è il pezzo di Lula che è stato tagliato perché è un video che è stato tagliato, c'era il momento topico quando diceva compagno Maroni e però l'abbiamo tagliato lì per evitare che Pisapia fosse geloso, quindi è stato un momento anche di censura da parte del ministro Martina. Molto rapidamente.